Ciao ragazzi, oggi sono a Milano e continuo il mio tour come si beve al mercato Oggi vi porterò a bere al mercato centrale di Milano C'è l'Enoteca di Tannico e poi c'è un angolo dedicato alla cucina di Bastianich E ci sono anche i suoi vini, quindi andremo a scoprire sia l'Enoteca di Tannico che i vini di Bastianich Andiamo! Bene ragazzi, qua l'atmosfera è fighissima Nel senso che come vedete c'è un tavolone sociale, già mi piace Quindi vuol dire che ti vuoi sedere tranquillamente, possono fare mescita Ovviamente Tannico è un mostro sacro del vino, lo sappiamo tutti Però credetemi che qua ci sono delle selezioni fantastiche Puoi spaziare, questo posto mi piace tantissimo, è veramente fico Quindi adesso mi sono portata come sempre Michele di Braciami Ancora E la sua cultura sul vino continuerà ad aumentare Ciao a tutti Continuiamo, allora ti faccio assaggiare un altro metodo ancestrale che a te ti piacciono Sì, mi ricordo, l'ho assaggiato una volta e mi era piaciuto tanto Quindi per l'unico metodo ancestrale E per me, con grande grande gioia, io prenderò un 3bien di Walter e Mattoni Va vedi la differenza? Abbiamo iniziato questo tour di bere al mercato, no? Sì Buona la bolla ancestrale Lo sapevo che ti piaceva Soprattutto buona alle 11 di mattina L'hai vista che abbiamo lo stesso colore di vino? Ah, la bollicina mi piace, non so dire perché ma mi piace E magari però se mi ricordi che cosa è il metodo ancestrale Non è che ogni volta te lo posso spiegare Il metodo ancestrale è un metodo familiare È come si faceva il vino una volta Che significa? Un rifermentato in bottiglia Vabbè, buono Ti piace? Mi piace tanto Ti piace? A te ti piace sta roba contadina? Sì, sì Ti piace sta roba contadina? Mi conosci Ok, facciamo un cin cin Vai, va Vai Ragazzi, Walter Mattoni è il top del top del Trebbiano A parte il nome fantastico, il Trebbiano è spaziale Mamma mia Comunque questo Trebbiano il nome è una gran paraculata si può dire Il rosso sai come si chiama? No Arzuna Arzuna e Trebbiano Che va, te lo faccio solo annusare Bello, come dite voi esperti ha un buon naso Ma secondo te mica? Dimmi Ci fanno bere a secco o ci danno un tarallo? Secondo me qui ti fanno bere a secco perché se vuoi mangiare ti prendi il bicchiere Che è poi la formula figa di questo posto Ma chi ti ha detto che siamo andando in giro? No, possiamo andarci in giro col bicchiere quanto ci pare Ma che figata Va bene, allora paghiamo e continuiamo il nostro turno Mi piace Lo sai perché mi piace? Perché tu ti prendi il bicchiere di vino E poi giri finché non trovi la cosa che ci si abbina bene Madonna, io adoro questo posto Guarda, sai che farei io, Fran? Te porterei su al primo piano che ci sta un sacco di completti Adesso, però tu dici oggi voglio bere questo E qua poi, grazie infinite, con una piccola passeggiata Abbinarci la cosa giusta Allora, due bicchieri al calice 13,50 euro Mi sembra che stiamo su prezzi decisamente di mercato Ah, quanto sei simpatico Oh, è troppo figo Io per questo lo porto Perché lui è veramente un figo Ciao, grazie infinite Ciao Ciao Noi quando arriviamo su Abbiamo finito il bicchiere di vino Riscendiamo e rifammo il pieno Ok, mi piace Oppure beviamo su Che c'è un'altra offerta Sì Come hai fatto? Diciamo che la selezione Rifallo un po' Diciamo che la selezione Che profumiera che sei È un po' meno varia Ragazzi c'è un fatto Francesca, quando viene in questi posti belli Ben organizzati E quando incontra bottiglie che le piacciono tanto In questo caso il Trebien Quando ha visto sulla lavagnetta Trebien è impazzita Gli occhi gli si sono trasformati a forma di cuoricino Ecco, in questi casi lei non capisce più niente Perché viene travolta Veramente da un fiume De uva, de passione E quindi vi trasporta con tutto il suo sentimento E il suo amore Vi posso dire per me che a volte vivo a fianco a lei Queste esperienze È una gran ficata Grazie di esistere Francesca Cara Francesca, secondo me Ma il pomodoro ma quanto è buona? No, no, no Secondo me tu ti dovresti mangiare Un po' di trippa alla fiorentina O un lampredotto Un lampredotto? Non l'ho mai mangiato Non l'hai mai mangiato il lampredotto? Prendiamo un lampredotto e una lingua? Un lampredotto e una lingua? Va bene, ok Dai, dai, dai Ti seguo Ci potrebbe stare bene Lo sai sulla lingua? E questo sul lampredotto? Veramente Bene ragazzi Qua c'è Gianni che è fantastico Molto, molto, molto gentile Adesso chiederò a lui Io ho pensato una cosa Ora ve lo presento Eccolo lui Gianni Piacere Io ho un rifermentato Ok? Con questo rifermentato Un metodo ancestrale Avevo pensato di prendere la lingua E poi ho un trebbiano Di Walter Mattoni Bello tosto Avevo pensato di abbinarci il lampredotto Tu che dici? Vuoi dare una sniffatina? Do una sniffatina Allora questo per la lingua Ci sta molto bene Ok Questo per il lampredotto Può andare Anche se di solito si usa il rosso Però Quindi è una bella sfida Una bella sfida Però ci sta bene Secondo me Proviamo dai Perché questo è un trebbiano Bello tosto Adesso provo a fare una cosa difficilissima Il lampredotto va mangiato cardo Il lampredotto va mangiato cardo La devo dire in toscano Come si dice questa cosa? Il lampredotto va mangiato cardo Bucaioli Madonna che bello Grazie Grazie Brava Francesca No questo è il mio Il mio vino È il mio vino È il tuo È il tuo Allora adesso Siamo sul mio canale Non fare la bestia Adesso ci mettiamo seduti E assaggiamo un pezzettino Piccolo Entrambe Va bene Come sei di classe Non fare l'animale Non tu no Adesso ti dico Se qui sta bene Lo sai mica? Questo vino è pure troppo aggressivo Vabbè te lo faccio assaggiare Il lampredotto è delicato ma piccante Giusto? Poco poco Generalmente è delicato Salza verde Questo è il trebbiano che va con questo E no quello con la lingua Ci vuole un bianco meno strutturato Forse questo ci sta meglio Sì ci sta molto meglio questo Beh lo dà un altro morso Ah questa bocca Scusate ragazzi Notate la classe Ridà il mozzico Ridà il mozzico come era prima Cioè avevi il mignolino alzato Il rifermentato con l'ampredotto Che si collega Va di contrasto l'ampredotto però C'ha una nota che conduce Alla salsa verde L'hai sentito? Perfetto Ragazzi per fare gli abbinamenti Bisogna sempre assaggiare E sempre ad inzuffare Eccolo la lingua La prendo io vai grazie mille Annusa fai le tue considerazioni Ecco la lingua Devo dare un altro morso Il trebbiano ci sta da dio Avevo invertito la faccenda Perché non avendo mai assaggiato Queste due cose I piatti vanno assaggiati Però i vini ci sono da dio Questo con il trebbiano Prova Vai test Quindi la lingua La lingua Stava bene con Con il trebbiano E l'ampredotto Con quello rifermentato E' più invadente la lingua Senti che c'ha più Decisamente Decisamente Che bello Fai video con te Perché scopri un mondo meraviglioso Che è quello degli abbinamenti Che gran figata Eh no Questo sembra che sto facendo Una capdazio benevolenza Ma che cazzo stai a Ma frequentarti Fare video con te Lavorare con te Degustare con te Ha un po' l'ho raggiunto Che bestata a perdere Bene ragazzi Io mi fermo qua E voglio tirare giù Le mie conclusioni Di questa giornata Questo format Mi è piaciuto da morire Lo trovo pazzesco Perché c'è un posto Che si concentra Sulla selezione dei vini Fa quello Lo fa benissimo Ed è dinamico Perché tutti i giorni Cambiano una mescita Tu ti prendi Il tuo bel bicchiere Cioè quello di cui hai voglia Quel giorno Che cosa puoi bere E te lo prendi E poi con tutta tranquillità Senza stress E te ne vai in giro Con il tuo bicchiere A cercare L'abbinamento giusto L'abbinamento corretto E passi una serata Fichissima Oppure ti vuoi mangiare Una cosa Proprio quella Prendi il tuo piattino Vai nell'enoteca E ti scegli il vino Più appropriato Ora questa cosa È bellissima E anche molto libera Io direi Ma perché nei comuni Piccolini D'Italia Che sono così Fichi Belli Non si fa una cosa Del genere Nel senso Sette otto botteghe Chi si occupa del vino E gli altri Fanno delle cose Da mangiare Tutte Uniche Nel loro genere Vai nell'enoteca Ti prendi il tuo bicchiere E poi vai a mangiare Dove vuoi Io penso che sia Un'idea fantastica Da Milano È tutto Ci vediamo Al prossimo mercato Ciao